Auguri ai tifosi del Napoli Innanzitutto auguri a tutti i napoletani che sono tifosi tra l'altro Anche a quelli che magari non lo sono Quindi auguri innanzitutto a tutti i napoletani Anche ai tanti viaggiatori che ci onorano di visitare Napoli in queste ore Ma sicuramente auguri al Napoli che ha finito con una bella prova Con una vittoria voluta nell'ultimi 30 minuti Quindi segno che la squadra evidentemente si sta ritrovando Però abbiamo bisogno di conferme Perché siamo molto indietro rispetto alle aspettative E ci avviciniamo a una sfida importante Poi a febbraio anche in Champions Quindi ci auguriamo che la squadra abbia ritrovato in questo tempo La sua compattezza, la sua serenità La sua voglia di essere uniti e di lottare Perché Napoli ha bisogno di una grande squadra Messi a Napoli, è una grande suggestione Perché è l'erede naturale del nostro Maradona Ma stai pensando a qualcosa, a un saluto particolare per lui? No, i rimpassi li abbiamo chiusi Abbiamo annunciato il prossimo sindaco, Bollani Ma Messi potrebbe essere vice sindaco Visto che nessuno è straniero No, i rimpassi li abbiamo chiusi